Sei cinese ed hai portato qui il virus. Per questa ed altre frasi accompagnate da spinte botte in strada nei confronti di un ingegnere elettronico sudcoreano, cinque giovani di Anghiari sono stati denunciati dai carabinieri del comando della compagnia di Sansepolcro. Sono accusati di un'aggressione verbale e fisica aggravata dall'odio raziale ai danni del sessantenne, dipendente di una società estera operante in Italia che si era trasferito ad Anghiari da qualche tempo. Dalla ricostruzione effettuata dai militari, l'uomo stava passeggiando per le vie del centro storico dopo il lavoro quando è stato accerchiato da parte del gruppo. I ragazzi, in modo del tutto immotivato, hanno iniziato a deriderlo per i suoi tratti somatici orientali. La sua reazione però è stata quella di proseguire per la sua strada a piedi senza curarsi più di tanto dell'accaduto. I cinque, invece, dopo averlo seguito per una decina di metri, lo hanno accerchiato e iniziato a spentonare e percuotere. Oltre ad essere assalito fisicamente, il sessantenne è stato anche minacciato e tacciato quale portatore del covid-19 nella cittadina di Anghiari. Le rapide indagini dei carabinieri hanno consentito di risalire all'identità dei soggetti coinvolti, partendo dalle dichiarazioni di alcuni passanti che, in modo sommario, hanno fornito degli spunti utili. I cinque giovani dovranno rispondere in concorso dei reati di percorse e minacce aggravate. Tre membri dell'aggressione, tutti con precedenti penali, due erano stati denunciati anche lo scorso anno per una vicenda di vandalismo riguardante il lancio di una panchina dalle alte mura storiche della cittadina.